del testo originale, traduzioni in tutta Europa, riletture e completamenti dell'opera che giungono a coprire più di un secolo che attraversano i più sbagliati generi letterali cioè pure a cartone animale che stavo vedendo le illustrazioni di Picasso per la Celestina non sono una fedele e filologica trasposizione è frutti, no, non è romantissimo la trasposizione del testo a lui va riconosciuto un assoluto primario in quanto a freschezza e originalità con questa sedia chiamiamola consigliata